La cosa è molto più semplice, non c'è bisogno di scomodare la psicanalisi, queste persone sono spaventate perché ciascuno di noi oramai nella propria cerchia ha i morti improvvisi, l'altro ieri un marito di una mia cara amica, boom, davanti all'ascensore, 80 anni pieno di salute, terza dose due giorni prima, no il vaccino non c'entra. L'altro giorno una signora di 50 anni, 5 figli, sindrome di guion bar, due giorni dopo la dose, no il vaccino non c'entra, è 4 mesi che l'ospedale, allora tutti oramai sono di fronte a questi effetti collaterali clamorosi che vengono negati, allora gli dice ci raccontano delle balle, sì ci raccontano delle balle perché gli effetti collaterali rilevati dall'AIFA sono 580 volte inferiori al sistema V6 americano, anche solo per gli aspetti di statistica, è impossibile. Adesso l'ultima cosa, questa qui sono solo le prime tre pagine del Dipartimento di Giustizia americano, 432 provvedimenti presi contro la Pfizer per corruzione di medici, farmaci ritirati perché pericolosi e allora ci dovremmo fidare, ci dovremmo fidare, ma stiamo scherzando. Lei la prende l'aspirina? La prende o no? E allora perché si fida? Perché si fida dell'aspirina? Perché questo è da un anno che c'è.